Importante perché si completa un'opera, il collegamento della Brebemi con l'autostrada per Milano-Venezia, la 4 e quindi si completa un circuito che consentirà maggiore velocità, migliori collegamenti, collegamenti più rapidi quindi una bella giornata nonostante il tempo. È stato possibile raggiungere questo risultato con l'impegno di tutti, le istituzioni, la Regione, il Governo, il Ministero delle Infrastrutture in particolare e il sistema privato. È stata un'opera in project financing dove però anche il pubblico è intervenuto perché era giusto farlo con 60 milioni la Regione e 260 milioni il Governo ma la ricaduta sui territori oltre che una nuova infrastruttura è importante perché le cosiddette opere di compensazione richieste dai comuni, dai sindaci del territorio è stata di circa 400 milioni di euro quindi un investimento importante anche per tante opere ambientali sul territorio. È stata un'azione fatta grazie al forte impegno delle istituzioni, quando ci sono cose concrete da fare le facciamo a prescindere dall'appartenenza politica e anche questo è un caso di successo, di leale collaborazione tra le istituzioni.